Io sono Raffaello De Crescenzo, meglio noto sul web come cultura agroalimentare e da qualche tempo condivido con voi le mie degustazioni per far sì che un po' tutti possano avvicinarsi al mondo del vino. Se i miei video ti piacciono iscriviti al canale e ovviamente lascia il tuo like. Amiche amici e amanti del vino, eccoci di nuovo insieme per andare a scoprire un vino di una delle aziende marchigiane che stimo maggiormente, le cantine Colli Ripani. Tra i loro soci conferitori c'è anche il mitico Yuri Keki, sono un'azienda davvero grande con se ben ricordo oltre un milione di bottiglie che spesso vince premi anche per la sua originalità nelle etichette oltre che per la qualità dei suoi prodotti. Questo è un prodotto che tenevo in cantina da un po' di tempo quindi spero non mi giochi brutti scherzi ed è un rosso piceno del 2013 da 12 gradi e mezzo. Un vino che può anche freggiarsi della certificazione biologica. alla vista il tappo si presenta come un agglomerato di sughero senza alcun difetto al naso quindi possiamo procedere con l'assaggio dopo aver avvinato il nostro bicchiere iso da degustazione. come da aspettative il vino si presenta di colore rosso porpora intenso quasi granato è consistente nel bicchiere lascia delle bellissime lacrime che stanno scendendo lentamente non presenta depositi quindi possiamo dire che è limpido. Al naso è intenso abbastanza complesso sembrerebbe fine anche se i fiori che avvertiamo sono sicuramente maturi forse leggermente sur maturi quindi sono proprio curioso di andarlo a provare in bocca. In bocca il vino si presenta secco molto caldo abbastanza armonico perché questi toni caldi sono veramente preponderanti la sua persistenza è buona anche la sapidità tutto sommato è discreta. Un vino che forse aveva già dato il meglio di sé un paio d'anni fa è ancora buono sicuramente un vino da abbinare con i piatti giusti e sto pensando ad un arista di maiale con una salsa barbecue o con una salsa alle prugne. Comunque un vino decisamente invernale, un vino da piatti abbastanza importanti e consistenti. Possiamo comunque dire che ci è andata decisamente bene considerando che sono sette gli anni trascorsi dalla vendegna. Leonardo da Vinci amava a dire che il vino è buono quando l'acqua in tavola avanza. Sicuramente di questo vino ne avanzerebbe ben poco anche ora che siamo nel cuore dell'estate. Un vino da servire nel periodo estivo a una temperatura abbastanza bassa, bello fresco. Io vi saluto e vi invito anche a farmi eventualmente qualche domanda con cui magari pensare a realizzare un prossimo video. Alla salute! Grazie a tutti!